Buongiorno a tutti, un saluto da Gabriele Bellelli. Oggi parlerò di obbligazioni, nello specifico parlerò di titoli di Stato italiani e mi concentrerò sui BTP. Se oggi arrivasse qui sulla terra un marziano, dopo pochi minuti sono convinto che ripartirebbe scappando a gambe levate, pensando tra sé e sé che in Italia non ci sono forme di vita intelligenti e razionali, ma al contrario qui siamo tutti schizofrenici. In pratica il dato di fatto è che nell'arco di poche settimane i titoli di Stato italiani, ad esempio i BTP con scadenza brevi, sono passati dall'offrire un rendimento nullo o addirittura negativo ad offrire dei rendimenti positivi. Rendimenti che, li vedete nell'immagine in sfondo, in questo momento definirei anche elevati, se rapportati, se confrontati con i titoli di Stato di paesi simili al nostro, come ad esempio Francia e Germania. Se non si fosse capito dalle mie parole, il dato di fatto, che poi è anche il motivo per cui sto registrando questo breve video, è che c'è mare mosso, c'è tempesta sul mercato dei titoli di Stato italiani. La domanda che mi stanno rivolgendo decine e decine di miei elettori in queste giornate è sempre la stessa. Che cosa fare? Conviene vendere e scappare perché sta per fallire lo Stato italiano? Oppure si tratta di una nuova occasione di acquisto sui titoli di Stato italiani? Allora, per rispondere con certezza alla domanda, ovviamente servirebbe la sfera di cristallo. Però qualche considerazione mi sento comunque di poterle esporre. Personalmente ritengo che l'ondata di sfiducia sull'Italia e sui suoi conti pubblici sia eccessiva, almeno in ottica di breve periodo. E di conseguenza ritengo che sia poi eccessivo anche il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato, o se preferite, da un diverso punto di vista che sia eccessivo il ribasso che hanno subito i prezzi dei titoli di Stato. Oggi rilevo molta emotività, molto ragionare di pancia, molto ragionare da tifosi, da ultras, di schieramenti politici. Leggo ad esempio sui principali mezzi di comunicazione molto pessimismo, che in buona parte mi sembra anche indotto in modo artificiale. Vi faccio un esempio così chiarisco che cosa intendo dire. Nei giorni scorsi si è letto su vari mezzi di comunicazione che i rendimenti dei titoli di Stato della Grecia erano arrivati ad offrire un rendimento inferiore rispetto a quell'offerto dei titoli di Stato italiani, ovviamente con pari scadenza. La logica sarebbe che se i titoli greci offrono un rendimento inferiore significa che sono più sicuri di quelli italiani. Dunque dovete sapere che si tratta di una fake news, come la chiamano oggi, non si tratta di una notizia falsa, in pratica si tratta di una bugia. Non è vero quindi che i titoli di Stato della Grecia offrono un rendimento inferiore rispetto ai titoli dei Stati italiani che sono quindi più sicuri, anzi è vero esattamente il contrario. I titoli di Stato della Grecia offrono un rendimento superiore e sono più rischiosi rispetto ai pari grado titoli di Stato italiani. Ora, io non so se questa bugia è stata diffusa per ignoranza di un giornalista e poi si è sparsa per colpa di altri giornalisti che l'hanno presa per buona senza verificarla, oppure per malafede, quindi infrangendo deliberatamente il codice penale, il codice deontologico, ma da osservatore del mercato rilevo comunque come queste false informazioni contribuiscono a creare un clima, chiamiamolo così, di terrorismo psicologico che indubbiamente non aiuta il piccolo risparmiatore nel prendere delle decisioni in ambito di investimento. Questo video vuole essere appunto un aiuto, un supporto al piccolo risparmiatore nel valutare la situazione attuale. Detto questo vado direttamente al punto. Dal mio punto di vista, a partire da questi livelli di rendimento, alcuni titoli di Stato sono tornati a essere interessanti e degni di attenzione ovviamente per iniziare a valutare e di inserirli all'interno di un portafoglio. Attenzione, non mi riferisco solo ai piccoli risparmiatori, ma ritengo che anche gli investitori istituzionali, come ad esempio i gestori dei fondi oppure dei prodotti assicurativi, che da parecchio tempo a questa parte hanno fame di rendimento, ecco, credo che anche gli istituzionali inizino ad essere discretamente interessati al rendimento che offre oggi il mercato dei titoli di Stato italiani. Da un punto di vista operativo possiamo analizzare i rendimenti di oggi sul mercato dei titoli di Stato da diversi punti di vista. In questo video mi concentro più per motivi di sintesi sulle scadenze entro i 5 anni, quindi quelle comprese dal 2018-19 fino al 2023. Una prima fonte di selezione, la vedete qui in sfondo in questo momento, dicevo una prima forma di selezione potrebbe individuare i BTP che presentano un prezzo inferiore a 100 e che contemporaneamente hanno un buon potenziale di upside, ossia un buon potenziale di rialzo del prezzo rispetto al valore di rimborso che è 100 e che contemporaneamente offrono anche un discreto rendimento in termini percentuali. Se osservate la tabella in sfondo noterete che ho selezionato una scadenza per ogni anno, quindi c'è la scadenza 2020, 2021, 2022 e 2023. Questa selezione ha il pregio, dal mio punto di vista perlomeno, di focalizzarsi sui BTP con prezzo sotto 100 che, diciamo così, oltre a fornire un rendimento positivo e interessante, come dicevo prima, permette anche di avere un'efficienza fiscale dal momento che l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di acquisto sotto 100 e il prezzo di rimborso che 100 produce una plusvalenza che è considerata reddito diverso e quindi come tale può essere utilizzata per recuperare eventuali minusvalenze pregresse. Se un investitore decide di sfruttare questa selezione è utile, secondo me, considerare due aspetti. Il primo aspetto da considerare è quello di utilizzare una strategia, un approccio scalare che prevede quindi di dividere in pratica il capitale destinato all'acquisto di titoli di Stato in parti uguali e di investire ciascuna di queste parti in una differenza scadenza temporale, quindi investire una parte nella scadenza 2020, una parte nella 2021, nella 2022 e infine nella 2023. Il secondo aspetto consiglio di utilizzare un ingresso frazionato e quindi di non comprare subito l'intera posizione, quindi fare all in, diciamo così, nell'acquisto, ma al contrario di sfruttare le fasi di debolezza dei prezzi in modo da cercare di ottimizzare il punto di ingresso e soprattutto di ottimizzare il rendimento dell'operazione. Una seconda forma di selezione, la vediamo in sfondo adesso, invece potrebbe tener conto solo del dato del rendimento e quindi fondamentalmente anche qui ho selezionato per le scadenze 2020, 2021, 2022, 2023, per ciascuna di queste annate quella che è l'obbligazione, titolo di Stato BTP, con il rendimento lordo annuo maggiore. Anche se si decide di sfruttare questa seconda forma di selezione basata solo sul rendimento, consiglio comunque di utilizzare sia l'approccio scalare che ho descritto prima che l'approccio basato sull'ingresso frazionato, quindi le due regole di buonsenso che ho illustrato per la selezione precedente valgono anche in questo secondo caso. Ovviamente quelle appena descritte sono solo alcune delle ipotesi di selezione che vanno a soddisfare delle esigenze finanziarie differenti e che dipendono fondamentalmente dalla pianificazione finanziaria del singolo investitore. Ovviamente si tratta di un elenco di selezioni non completo che poteva essere declinato anche in differenti modalità, ad esempio potevo prendere come riferimento l'ammontare della cedola, più a selezionare obbligazioni con una cedola elevata. Quest'ultimo caso poteva essere utile ad esempio per l'investitore che ha come obiettivo finanziario quello di ottenere delle entrate periodiche. Volendo si potrebbero valutare anche altre strategie, ad esempio si potrebbe acquistare il BTP con il prezzo inferiore in modo tale da rischiare un ammontare monetario inferiore oppure si potrebbe acquistare al contrario il BTP che ha subito il maggiore ribasso in termini percentuali. Un ultimo aspetto che secondo me è importante sottolineare in questo momento è che la situazione dei titoli stati italiani è una situazione non definita, ma è una situazione in itinere, cioè in fase di definizione, per cui nel corso dei prossimi giorni o più probabilmente nel corso delle prossime settimane potrebbero crearsi situazioni anche molto differenti da quelle che vi ho appena descritto in questo video. Questo significa che oggi non è il momento di adottare un approccio da cassettista che acquista e mantiene il BTP fino a scadenza, ma io piuttosto oggi consiglierei un approccio dinamico che prevede di gestire i BTP o comunque i titoli in portafoglio in modo attivo e quindi di incrementare oppure addirittura di liquidare l'intera posizione in base a quelle che sono le mutate condizioni del mercato. Mi raccomando, prestate attenzione al disclaimer che ho inserito all'inizio del video, ma soprattutto iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul tasto rosso con la scritta iscriviti che trovi qui sotto il video. Dopo esserti iscritto, mi raccomando, se il video ti è piaciuto ti invito a cliccare su mi piace nell'apposita icona che trovi qui sotto il video e soprattutto ti invito a condividerlo sui social network, come ad esempio su Facebook, in modo tale che questo video possa essere utile anche ai tuoi amici, ai tuoi contatti. Se hai dei dubbi, domande e chiarimenti mi puoi scrivere in questa mail, trovi la mia mail per contattarmi direttamente g.bellelli.biz Sono attivo anche sui social quindi puoi scrivermi anche in quei contesti. Per oggi è tutto, in attesa della prossima video pillola ti auguro una buona settimana e un buon trading.